In questi giorni c'è un po' di preoccupazione per le notizie che arrivano dalla Cina. Si teme una nuova ondata Covid. Com'è la situazione, come la sta gestendo la Regione e quali sono le prospettive? Intanto ci tengo a sottolineare il fatto che noi, come Regione Lombardia, non stiamo vivendo assolutamente una situazione emergenziale o di allarme. I tassi di ospedalizzazione per Covid, ossia le persone che vengono ricoverate in ospedale o in area acuta o in terapia intensiva, hanno tassi di occupazione molto bassi. Questo è il primo obiettivo che ci siamo dati e che ci rende abbastanza tranquilli. Abbiamo però di mantenere un'attenzione alta, prima di tutto che non vengano introdotte nel nostro territorio varianti diverse da quelle per i quali la nostra popolazione è stata vaccinata. È in quest'ottica che bisogna inserire l'intervento che primi in tutta Italia abbiamo effettuato nel aeroporto di Malpensa, dove arrivano i voli diretti dalla Cina, che è un territorio particolarmente interessato all'epidemia Covid, anche purtroppo in questa settimana. Quindi il nostro intervento non è un intervento restrittivo delle libertà di chi che sia, è un intervento a protezione della nostra gente. vogliamo essere sicuri di non ritornare a focolai o ritornare ad emergenze che speriamo aver dimenticato.